L'ICAT è un'organizzazione non profit fondata nel 1989 per promuovere e coordinare le attività dei club alcologici territoriali che utilizzano l'approccio ecologico sociale ai problemi alcol correlati e complessi ideato ed applicato dal neuropsichiatra Vladimir Udolin. I CAT sono comunità costituite da non più di 12 famiglie e da un servitore insegnante che sperimentano in un clima di amicizia, condivisione ed amore responsabile, un percorso di cambiamento di stile di vita tendente alla sobrietà attraverso la crescita e la maturazione della persona. I club come comunità di cittadini solidali sono nodi fondamentali delle reti di protezione e promozione della salute della comunità locale e sono presenti su tutto il territorio nazionale. Essi sono organizzati in associazioni locali ACAT, APCAT e regionali ARCAT. Ogni anno si celebra il congresso nazionale dei club alcologici territoriali, diventati un punto di riferimento nella promozione di stili di vita sani e liberi dall'alcol. Più di 2.000 club in Italia sono una scelta concreta di libertà dall'alcol. Impegno. Un impegno. Grazie a tutti.